L'assise civica in questi giorni, superato il nodo delle variazioni di bilancio più urgenti per i progetti, sta affrontando la rideterminazione delle aliquote IRP e FEIMU che vanno innalzate, così come indica la disciplina in materia di dissesto, un punto assai controverso anche politicamente che sta mettendo in ambasce l'aula. Nessuno tra i consiglieri pare intenzionato a supportare un drastico incremento delle imposte, gravando ulteriormente sui cittadini, sono risvolti della dichiarazione di dissesto ufficializzata dal civico consesso a metà novembre. È stato il passaggio obbligato scaturito dal mancato piano di riequilibrio, un dissesto che adesso è stato messo nero su bianco anche dai giudici della sezione di controllo della Corte dei Conti regionale. In settimana con una deliberazione i magistrati contabili hanno preso atto del provvedimento approvato dal Consiglio. Si legge infatti che la sezione regionale di controllo deve limitarsi a prendere atto della dichiarazione di dissesto da parte del Comune senza che sia essenziale la richiesta di una ulteriore deliberazione da parte dell'ente, così è riportato. I magistrati palermitani richiamano gli accertamenti in sede di controllo sui rendiconti degli esercizi 2017, 2018 e 2019, nonché sul bilancio di previsione dell'esercizio 2018-2020, dai quali sono emersi profili di irregolarità contabile e criticità per gli equilibri di bilancio. Ancora sul rendiconto dell'esercizio 2020 e sui bilanci di previsione 2019-2021, 2020-2022 e 2021-2023 sono rilevabili, secondo i magistrati della Corte dei Conti, gravi profili di irregolarità contabile e criticità per gli equilibri di bilancio, nonché di difformità dalla sana gestione finanziaria, con particolare riferimento ad un risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 considerato inattendibile. La Corte dei Conti impose misure correttive a Palazzo di Città, le traversie occorsi all'ente hanno aperto come unica via percorribile proprio quella del dissesto. La presa ad atto della sezione di controllo della Corte dei Conti sarà trasmessa adesso al Consiglio Comunale, al Sindaco, ai Revisori, all'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali a Palazzo di Città. Dopo la dichiarazione di dissesto appunto, si attende l'insediamento della commissione straordinaria di liquidazione.